Salve, salve da Marco Calabro, Marco Calabro per conto di Alleanza Mobiliari. Oggi ci troviamo da Atelier Casa a Bogotà in Colombia. Siamo qui per analizzare uno dei prodotti che più ama il cliente della SNAI. Stiamo parlando del modello TIE. È un prodotto estremamente funzionale, estremamente pratico, valido anche dal punto di vista estetico. In questo caso, qua da Atelier Casa a Bogotà, ce lo stanno presentando con il piano completamente in acciaio, molto funzionale. E volevo farvi vedere una particolarità, che è una chicca dell'azienda. Il rivestimento del lavello in modo da evitare qualsiasi tipo di problematica. La cucina viene completata da una maniglia molto bella, sinuosa, che viene abbinata con la sinuosità anche della parte alta. Pratica, funzionale e bella, come SNAI però da tanti anni ci ha insegnato. Grazie sempre per ascoltare i video di Alleanza Mobiliari e a risentirci al prossimo video.